Sono studenti del liceo Morandi, 500 di loro vedono per la prima volta questa scuola oggi, il 13 ottobre 2014. Sono studenti di terza, di seconda, ma anche di prima. Per loro ha un significato particolare, abbiamo indicato loro già da giorni il piano in cui sarebbero stati collocati con la loro classe e il numero dell'aula. Certamente impareranno a scoprire a piano questa scuola, la esploreranno durante il primo intervallo e poi successivamente quando potremo utilizzare anche il laboratorio. È importante che i ragazzi sentano proprio questa scuola e che piacevolmente vi si trattenga con essa, perché il tempo scuola deve essere un tempo più disteso, non è sufficiente al mattino e in questa scuola da sempre la tradizione è quella di avere attività extracurricolari lungo di grande. L'interesse della scuola è mantenere questa attività narrativa pomerigliana estremamente rica, per fare in modo che gli studenti apprezzino sia l'offerta fondamentale della scuola che gli ambienti in cui essere erogati.